Siamo con Simon Pietro Palazzo, capogruppo di ora Ghinelli, nonché consigliere provinciale. A proposito, per la provincia come si mette? Si metterà che nel weekend del 29 settembre torneremo al voto del solo consiglio provinciale. Questo dice la norma perché eravamo già di fatto decaduti a dicembre e con le elezioni amministrative che ci sono state nei scorsi mesi ovviamente si è rinnovato quello che è il corpo elettorale. I cittadini, non tutti magari conoscono questi dettagli, il consiglio provinciale purtroppo dopo la legge del Rio viene eletto solo dai consiglieri e dai sintaci. Venendo meno il 61% di questi con le ultime elezioni abbiamo aspettato il rinnovo appunto del corpo elettorale. L'unico che sta tranquillo è il presidente Polcri. L'elezione del presidente, quindi vale anche per il presidente Polcri, è scissa in questo caso ad oggi almeno dall'elezione del consiglio provinciale. Quindi i presidenti, a differenza dei consiglieri, vengono eletti per quattro anni e il consiglio solamente per due. Questo fa capire quanto sia anticostituzionale la norma del Rio e come abbiamo detto più volte mi meraviglio che nessun parlamentare, ma oggi la qualità anche dei parlamentari è molto scarsa, abbia iniziato a sentire l'odore di incostituzionalità di questa legge. Andando anche a cercare responsabilità perché ricordo ai cittadini che ad esempio la provincia di Arezzo gestisce 40 milioni del PNRR e al di là delle competenze storiche, ad esempio le scuole, la viabilità, sono funzioni che costano, che devono essere gestite, che devono essere finanziate, che devono essere amministrate. Non per far polemica, ma bisogna a tutti i livelli cercare di sanare questo vulnus negli enti locali. Grazie.